Tenevo veramente in pochissimi istanti ad aggiungere alle parole importanti che abbiamo ascoltato anche il cordoglio del Governo del Paese per una personalità che riteniamo essere stata molto importante, una figura eccezionale che lascia un vuoto indelebile. Io credo che a Guglielmo la discussione che è stata fatta oggi sarebbe davvero piaciuta e forse avrebbe sorriso e ci avrebbe accarezzato Renata, ci avrebbe persino confortato, perché questo era Guglielmo Epifani, una personalità straordinaria dotata di un'umanità incredibile capace di leggere la complessità dei processi, di semplificarli, di tenere insieme una grande fermezza di principi, una grande radicalità delle cose in cui credeva, con una straordinaria capacità di dialogo, di ascolto, di confronto con tutti quanti. E io penso che il messaggio di quest'Aula di oggi sia quanto di più bello possa esserci, un messaggio unitario, di una grande personalità, rappresentante senz'altro di una parte, di un punto di vista, ma rappresentante come ci chiede la Costituzione, con disciplina ed onore delle nostre istituzioni. E allora io penso che nel ringraziarlo, anche come Governo del Paese, in una seduta solenne del Parlamento, dovremmo tutti assumere un impegno, l'impegno di provare a tenere viva questa lezione straordinaria, la lezione di un uomo che ha dedicato l'intera vita, prima di tutto a difesa del diritto al lavoro. Nella sua esistenza ha fatto tantissime cose, ma credo che la matrice di fondo fosse questa. Spesso è stato in questi giorni ricordato il suo sentirsi essere socialista. Io penso che questa parola vada interpretata nel senso più umanista possibile, cioè come tentativo quotidiano di costruire una realtà migliore in cui nessuno resti indietro, in cui i diritti vengano sempre estesi e resi disponibili per tutti. E allora io penso che noi, e quando dico noi lo ribadisco, non penso ad una parte, ma penso a tutti quelli che hanno a cuore la buona politica, la difesa delle istituzioni, la loro dignità, l'impegno civico. Penso che tutti noi dovremo lavorare insieme per tenere viva questa memoria e provare a tenere appunto viva questa lezione straordinaria con atti reali che difendano ogni giorno quei valori essenziali per cui Guglielmo ha speso un'intera esistenza. Grazie.